Buonasera a tutti, direi di cominciare, siamo quasi puntuali e benvenuti qui al circolo dei lettori di Torino per questa conferenza, convegno, la vera storia di Lidia Poet. Io sono Andrea Garavello, assessore alla cultura dell'Unione dei Comuni, l'Unione Montana dei Comuni del Valle Chisone Germanasca, qui mi sento un pochino a casa perché frequento in qualità però di editore ma oggi sono in altra veste, frequento i corsi di Angar Book, Regione Piemonte e devo dire che la Regione Piemonte verso la cultura e verso l'editoria in particolare ha un occhio di attenzione che altre regioni in giro per l'Italia e i miei colleghi dicono non avere, quindi un applauso alla Regione Piemonte dove esserci anche la serratrice che è la responsabile del settore promozione dei beni libri archivistici, editoria, istituti culturali eccetera, forse ci raggiunge più tardi. Cominciamo con i saluti istituzionali, in rappresentanza della Regione Piemonte abbiamo Monica Canalis, consigliere regionale a cui cedo subito la parola. Grazie Andrea Garavello, grazie all'autrice, grazie a tutti voi, per me è un piacere portare oggi in questa sede il saluto del Consiglio regionale del Piemonte, è un piacere farlo come consigliera regionale, come donna e anche come persona originaria del Pinerolese, la terra in cui nacque nel 1855 Lydia Poet, una donna che ha fatto da apripista, è stata una pioniera, ha saputo davvero abbattere molte barriere culturali di pregiudizio e un po' ha tracciato una strada per tante di noi, credo che sia importante far conoscere la sua storia anche magari correggendo alcuni errori della serie televisiva, far conoscere la vera storia di questa figura perché ancora c'è molto da fare, anche in una Regione come il Piemonte che tra le poche in Italia ad esempio non aveva ancora la doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale. Tra pochi giorni, proprio in Consiglio, inizieremo la discussione su questo argomento e spero che anche l'esempio di figure come Lydia Poet possa essere di ispirazione per noi legislatori, per fare dei passi avanti anche in questo ambito. Quindi io vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di salutarvi, spero che questo libro possa avere diffusione e spero che gli interventi che purtroppo non potrò ascoltare per intero perché come Andrea sa oggi siamo impegnati in Consiglio nella discussione del bilancio di previsione 2023 della Regione, ecco spero che questi interventi possono veramente illuminare e aprire altre strade per l'emancipazione e per la crescita delle donne nella nostra società. Molta strada è ancora da fare. Grazie a tutti. Sì, la figura di Lydia Poet in questo periodo è una figura che sono venuti tutti a conoscere, non è sempre stato così, per lungo tempo è stata un po' dimenticata. Noi però in valle conserviamo memoria di Lydia, io poi sono un lontano pronipote di Lydia quindi se ne sentivo parlare fin da bambino. La fiction di Netflix ha un pregio enorme che è quello di aver riscoperto il personaggio e di averlo portato alla ribalta non solo in Italia ma nel mondo in quanto mi si dice essere la terza fiction, scusate ma ogni tanto mi si con queste fiction mi si incrocia la lingua, la terza fiction più vista al mondo. Rivendichiamo fortemente le origini valligiane di Lydia e quindi invito per un saluto istituzionale Marco Vente, presidente dell'Unione Montana dei Comuni di Vallecchisona e Germanasca. Buongiorno a tutti, innanzitutto è stata una grandissima emozione essere qui, che è un salone bellissimo, io non l'ho mai venuto quindi è un onore e un piacere essere qui. Io sono il sindaco del Comune di Villareperosa ma soprattutto sono il presidente dell'Unione Vallecchisona e Germanasca. Ringrazio Andrea che è il nostro assessore alla cultura ma soprattutto è tuttodale di una delle realtà più importanti dal punto di vista editoriale del territorio del Piemonte e voglio dire che è una cosa importantissima soprattutto un territorio tanto in difficoltà economico come la Vallecchisona e Germanasca, lui è un esempio lampante della resilienza, della capacità, della competenza e dell'importanza di poter avere realtà così importanti. Venendo qua mi sono chiesto che tipo di intervento fare perché di solito noi politici, noi amministratori tra virgolette facciamo un sacco di interventi e il mio intervento voleva vertere su un aspetto che Andrea ha sottolineato, la nostra incapacità o capacità di limiticare le persone ma di limiticare soprattutto quelle persone che hanno dato tanto dal punto di vista valoriare alla nostra società perché noi soprattutto le generazioni dei giovani credono che alcuni diritti siano stati acquisiti così to cure, invece no, i diritti sono acquisiti grazie all'attività, alla capacità di soggetti, di personaggi come l'idea poet e quindi bisogna riscoprire, lo dico facendo anche un'analisi mia, il nostro territorio perché anche noi l'abbiamo poco valorizzata questa figura importante ed è per questo motivo che noi stiamo studiando sul territorio un progetto turistico che vogliamo, adesso vi anticipiamo, vogliamo parlare, vogliamo denominare dall'avvocato all'avvocata perché una realtà tanto in crisi come quella che sono germanasca deve partire dall'aspetto turistico e noi abbiamo due soggetti veramente importanti riconosciuti a livello mondiale e quindi faremo questo percorso, lo faremo con Andrea, lo faremo con tutti gli amici del territorio e spero che tutti voi possiate condividere questa emozione, condividere quei territori che come ha detto bene il consiglio regionale sono stati la curva di questa personalità, vi ringrazio e grazie e invito. Grazie Marco, chiaramente l'avvocato è l'avvocato Agnelli, essendo lui di Villar, non dovevo dirlo, lo sapevate tutti, ma chissà mai sono dei giovani che potrebbero non averlo conosciuto personalmente come è successo invece a Marco. Tra l'altro lui nasce criminologo forense quindi Lidia, Lidia l'ha dovuta conoscere per forza, la storia di Lidia la sapeva già. Dunque, la signora alla mia destra è Cristina Ricci, l'autrice del libro di Lidia Poet, pubblicato in coedizione nell'areditore Grafot e il libro attualmente più venduto su Amazon, ce ne sono altri in circolazione su Lidia, sono quattro titoli. Per questo pomeriggio abbiamo scelto solo quello di Cristina perché lei risiede a Pinerolo, il libro è pubblicato da da case editrici torinesi, in particolar modo la Grafot e quindi inviterei per dirci due parole su questa scelta editoriale Laura Giacchino, titolare della Grafot di Torino che molti di voi conosceranno bene. Allora, buongiorno a tutti, noi come Grafot abbiamo accolto subito con entusiasmo la proposta di pubblicazione che abbiamo ricevuto più di un anno e mezzo fa dall'autrice, da Cristina Ricci, perché onestamente fino ad allora non conoscevo Lidia Poet, però è stato veramente facile affezionarsi a lei e quindi insieme ad Andrea abbiamo deciso di fare questa coedizione perché è un progetto in cui entrambi credevo molto e credo che capirete ancora di più facilmente le motivazioni di questa scelta editoriale alla fine di questo pomeriggio in cui Cristina vi avrà parlato molto di lei e della sua storia. Abbiamo, ci siamo presi l'impegno proprio di diffondere la storia di Lidia Poet, ovvero la storia di questa donna che con grande determinazione ha difeso i suoi diritti e i diritti delle persone più deboli ed è stata molto coraggiosa a intraprendere per prima una grandissima battaglia. Ci stiamo impegnando molto, ci stiamo credendo molto in questo progetto, il libro lo stiamo presentando moltissimo in Piemonte chiaramente dove è nata, in Italia, ma anche all'estero infatti siamo in trattativa per la traduzione con un editore greco e abbiamo già avuto una manifestazione di interesse sia nella Svizzera tedesca che nella Sud America. E inoltre è stato divertente anche essere contattati da Stéphane Bern, un famoso radio francese, Europe 1, che ci ha contattati per ricevere il libro di Lidia Poet in quanto voleva proprio fare una trasmissione su di lei, insomma, quindi anche a Parigi Lidia ha colpito ancora. Insomma, quindi come ha entusiasmato noi e tutti coloro che pian piano incontra, spero che oggi entusiasmerà anche tutti voi. Grazie per l'attenzione e di essere qua. E quindi conosciamo un po' meglio Lidia Poet. La parola a Cristina Ricci. E quindi spero di essere all'altezza. Per raccontarvi chi era Lidia Poet parto dalle origini, nel senso abbiamo già visto che era nata in Valchisone a metà dell'Ottocento, era di una famiglia altolocata. Lidia Poet si dice che imparò a leggere quasi da autodidatta. In una sua dichiarazione lei dice che era nata per studiare, si domanda se questo fosse stato un bene oppure no, però la sua certezza è che se fosse rinata avrebbe ricondotto la sua vita così come aveva fatto. Questo è particolarmente importante perché la sua vita fu una vera sfida sotto molteplici aspetti e se vogliamo fu sempre una lotta in salita e molto spesso forse lei fu convinta di combattere ma di non avere la vittoria. Nel senso che la sua prima grande battaglia è quella per esercitare la vocatura sul quale non mi soffermerai perché sicuramente i relatori che verranno ve la sapranno raccontare meglio di me, ma lei vede solo a 65 anni la vittoria su questa battaglia per cui percorre gran parte della sua vita come esclusa. Esclusa per una motivazione che ai giorni nostri è aberrante, esclusa perché era una donna. Leggendo gli atti processuali si vede bene come le sentenze che le escludono siano intrise di quelli che noi oggi definiamo pregiudizi, mentre lei nei suoi ricorsi porta avanti un discorso giuridico che si basa sulle caratteristiche che la legge prevedeva per diventare avvocato e nonché su un fondamento che era l'articolo dello Statuto Albertino che diceva che tutti i regnicoli erano uguali di fronte alle legge indipendentemente da sesso e da convinzioni religiose. Quindi questo per farvi capire la mole diciamo così della battaglia che lei combatte e dell'ingiustizia che subì. Io molto spesso dico che fortunatamente Lidia Poet venne radiata dall'albo perché a partire dall'84, dal 1884 e quindi dalla sentenza della Cassazione che la cancella, lei non si fece abbattere, non si scoraggiò ma iniziò secondo me la sua opera proprio nel campo sociale. Il campo sociale è inteso a 360 gradi, lei lottava per il cambiamento della società in cui viveva e si impegnò moltissimo nei congressi penitenziari nel quali prestò la propria opera per più di 30 anni e sposò poi le cause del femminismo quando all'inizio del novecento iniziarono a crearsi le prime associazioni a livello europeo, lei era tra il coordinamento di queste associazioni e tra le promotrici dei congressi internazionali che si erano qua in Italia con queste visioni veramente molto moderne e come diceva prima Marco Ventre i diritti non sono mai, non cadono dal nulla ma sono la costruzione di un percorso. A leggere le rivendicazioni che faceva Lidia Poet a inizio novecento viene da chiedersi da un lato quanto ancora di quel percorso si è da compiere e dall'altro quali sono le nostre proposte attuali perché molti di quelle rivendicazioni che abbiamo visto poi concretizzarsi solo negli anni duemila e a fine del novecento derivano da quei percorsi e sembra quasi che noi in qualche modo non siamo stati quasi in grado di proporre nuovi argomenti e nuovi diritti. Per concludere e lasciare poi spazio agli altri le rivendicazioni che si venivano fatte nei congressi femministi erano oltre il diritto al voto altra grande battaglia che lei vede concludersi perché muore nel 1949 quindi tre anni dopo la concessione del suffragio universale c'era il diritto del divorzio le donne chiedevano la parificazione tra figli legittimi e illegittimi chiedevano di avere la potestà sui propri figli chiedevano la possibilità di in qualche modo perseguire il padre all'estero affinché mantenesse i figli lasciati in Italia quindi tutte le rivendicazioni molto attuali che hanno visto come vi diceva la concretizzazione solo nel nella fine del novecento e agli inizi degli anni duemila e quindi c'è da domandarsi quali altre proposte noi abbiamo portato avanti nate dalla nostra mente e non ereditate in qualche modo e su questa domanda lascio la parola a chi parlerà dopo di me grazie sì parliamo quindi di lidia poet avvocata invito qui sul palco simona grabbi presidente dell'ordine degli avvocati di torino e assunta confente avvocata e anche lei dell'ordine degli avvocati di torino io cedo a loro il posto no prendo io prendo io posto e microfono buonasera a tutti sono simona grabbi ho l'onore di presiedere pro tempore il consiglio dell'ordine degli degli avvocati di torino ed è veramente un grandissimo piacere essere qui e partecipare ogni qual volta si ricordi una figura straordinaria di avvocata restituendo anche a questa figura diciamo la storia la storia vera non la storia che vediamo tra virgolette per esigenze comprensibili comprensibilissimi di fiction di insomma di rappresentazione cinematografica che vediamo appunto riprodotta in questi in queste settimane peraltro so anch'io che è la prima serie netflix in spagna cioè ma veramente ha avuto un successo un successo straordinario per parlare per l'appunto di una figura devo dire eccezionale quando i giovani colleghi giurano per diventare avvocati eh mi sarà testimone alla consigliera all'ex consigliera avvocata assunta confente noi diciamo sempre che devono essere molto orgogliosi di iscriversi al nostro consiglio che ha dato in passato delle ragioni veramente di di orgoglio ai suoi appartenenti pensiamo al nostro presidente Fulvio Croce ma pensiamo a quel coraggiosissimo gesto nell'estate del 1883 il 9 agosto del 1883 il consiglio dell'ordine si riunisce di Torino e deve decidere se iscrivere all'albo forense una una un'avvocata perché lei è sempre stata evidentemente un'avvocata e eh aveva tutti i requisiti tanto per intenderci nel senso che eh era una delle quattro studentesse universitarie di quel periodo nel senso che c'erano soltanto quattro studentesse le definivano i famerici intelletti proprio perché avevano questa questa capacità insomma intellettiva veramente veramente rara pensate che alla prima lezione come cita anche la la scrittrice un episodio che è molto particolare ma è molto significativo di di che cosa ha dovuto affrontare lei sin da ragazza sin da giovane studentessa entrata nell'aula eh universitaria ovviamente frequentata solo da uomini e il professore era un professore era un uomo si sono fatti tutti da parte il professore pensando di essere garbato nei suoi confronti le chiese se voleva una sedia e un tavolino a parte e lei disse che non aveva alcun bisogno e che si poteva tranquillamente sedere in prima fila e fu il posto che lei tenne sempre occupato come per l'appunto lei stessa racconta in termini devo dire molto garbati eh che lo tenne fino alla fine del corso dei suoi studi dopodiché fece la pratica perdonate questo slang che usiamo ancora adesso quindi partecipò alle udienze fece le sue relazioni perché questo prevedeva la legge del 1874 la prevede tuttora non è cambiato tanto rispetto alla legge attuale e frequentò le udienze fece le sue relazioni aveva tutti i requisiti per essere scritta all'albo degli avvocati e la legge del 1874 che io qui con me parlava di quindi il termine era proprio che chi abbia i requisiti stabiliti dalle leggi tanto per il mestiere di avvocato perché per quello di procuratore perché ne allora si distingueva e adempia gli obblighi che incombono per entrambi può iscriversi all'albo degli avvocati chiunque non c'era scritto un uomo e questo è molto importante e lei pensava di averli tutti e li aveva questi requisiti vi assicuro che li aveva e quella quella giornata probabilmente torrida del 9 di agosto 8 contro 4 e fu una discussione molto molto animata si decise per l'appunto a maggioranza con un gesto rivoluzionario di cui io ricordo sempre l'accaduto per dire a questi giovani avvocati di conservare la memoria anche dei gesti importanti che un ente intermedio come il consiglio dell'ordine degli avvocati può fare l'ha iscritta con delle parole io ho portato la fotocopia della delibera di iscrizione che noi conserviamo esposta in una teca all'ingresso del consiglio dell'ordine degli avvocati una grafia bellissima ma al di là della grafia sono i concetti che esprime in termini chiari e perentori in cui si dice che la donna ha gli stessi identici diritti civili degli uomini non c'è nessuna ragione giuridica o di convenienza perché usano queste espressioni per poter ritenere che lei non si dovesse iscrivere perché la qualità di uomo non era indicata dalla norma e non la si poteva ritenere come tale interpretabile una discussione molto animata se avete la possibilità la scrittrice la riporta insomma sono sono dei passi molto molto interessanti si dice addirittura è antico pensare diversamente 1883 quattro che votarono in modo in modo contrario tra cui desiderato chiaro che era un ex ministro dell'interno che ha fatto anche leva chiaramente sulla sua autorevolezza istituzionale per ribadire un concetto per cui quello era un ufficio pubblico e come tale le donne non erano ammesse all'ufficio pubblico perché questo era uno degli argomenti giuridici che venivano utilizzati epoca in cui le donne comunque gli uffici pubblici le potevano già rivestire perché potevano già fare le telegrafiste per esempio e quello che vi dico è che potevano farlo ma non potevano sposarsi perché se no sarebbero state licenziate e avevano una paga meno della metà di quella degli uomini questo era il periodo storico in cui dobbiamo iscrivere questa figura rivoluzionaria e che cosa ha fatto il consiglio non lo dice solo ai colleghi che giurano e poi lascio la parola alla consigliere Assunta Confente ha fatto un'altra cosa proprio su iniziativa di Assunta mentre in consiglio si discuteva di accreditare un evento formativo sulla parità di genere Assunta ha detto ma perché non cerchiamo di intitolare un'area cittadina a questa figura straordinaria era inizio consigliatura ho detto ma l'Assunta è una splendida idea diamoci da fare era penso luglio del 2019 poi purtroppo come sapete a febbraio del 2020 siamo stati tutti travolti ma a luglio dell'anno successivo alla fine dell'amministrazione a Pendino con parecchia ostinazione e insistenza devo dire spero almeno una parte dell'ostinazione di questa straordinaria figura si è convinto il consiglio comunale a dedicare l'area giochi e questa non è stata una scelta casuale l'area giochi davanti al palazzo di giustizia voi sapete che c'è il grattacielo di Intesa San Paolo poi c'è un'area giochi e perché abbiamo pensato a quella? abbiamo pensato a quella perché lei come giustamente ricorda la scrittrice nella seconda parte del suo testo la Cassazione ha annullato la delibera di iscrizione il consiglio torinese necessariamente ha dovuto cancellare l'avvocata Lidia Poet ma anche la seconda parte della sua vita è stata straordinaria perché si è dedicata a dei temi con una capacità illuminata di prevedere i problemi sto parlando del diritto penitenziario cioè sul discorso della rieducatività della pena ma quanto è attuale questo ragionamento qua sul fatto che la pena non deve essere solo privazione della libertà ma debba essere accompagnata di un percorso rieducativo in modo tale che si restituisca a un cittadino piuttosto che sul tema del diritto di famiglia e lascio poi la parola chiaramente ad Assunta Confente con delle idee rivoluzionarie che come se avesse scritto la riforma del diritto di famiglia del 1975 quindi anche questa seconda parte della vita è stata una vita straordinaria aveva veramente una figura rivoluzionaria vederla trasformata in questa sua carica rivoluzionaria in una carica così trasgressiva come il personaggio cinematografico ha ma ci rendiamo conto che sì certo deve rispondere a quelle che sono degli interessi dei telespettatori ma si è colto più l'aspetto diciamo anticonformista senza accogliere quella che era veramente la forza di pensiero rivoluzionaria diciamo così di questa figura quindi è stata accolta questa nostra richiesta ma ciò non toglie che lo possa fare perdonate se apro e chiudo questa parentesi nel senso che giustamente non doveva essere un film documentario non è nato così e ci mancherebbe Netflix può fare quello che ritiene né è liberamente ispirato ciò non toglie che il consiglio con qualche ente pubblico possa per esempio decidere come ha fatto per quella straordinaria figura di Fulvio Croce di fare un film documentario cioè un film fedele alla storia di Lidia Poet torniamo al tema del giardino si è deciso quindi di intitolare quell'area perché lei si è occupata anche del diritto minorile per l'appunto e si è deciso di farlo perché in un'area cittadina e non dentro il palazzo di giustizia dentro il palazzo di giustizia vi assicuro che sarebbe stato semplicissimo perché anche quello è un condominio a tutti gli effetti c'è un'assemblea di condominio qui c'è il presidente Castellani che può confermarlo in cui si discute di spazi in cui si discute di servizi in cui si discute di organizzazione del palazzo di giustizia ma è molto più semplice mettere una targa come abbiamo fatto per esempio per i 54 colleghi ebrei espulsi dall'albo in eseguzione delle leggi razziali è molto più facile come se fosse casa nostra e quindi possiamo tranquillamente apporre una targa è molto più semplice no perché con il consiglio comunale? perché deve essere un simbolo per tutti i cittadini e chiunque passi di lì è pregato di guardare questo cipo e di guardare questa immagine certo che cogli la volitività della persona anche dall'espressione dagli occhi perché deve essere un simbolo di che cosa? di una battaglia di genere di una battaglia di genere importantissima che è stata compiuta e poi alla fine vinta perché nel 1919 la legge ha recepito quello che ormai era diventato il mood di un movimento culturale inarrestabile e c'è quello della parità dei diritti civili tra uomo e donna e quindi è per quello che abbiamo voluto per l'appunto collocarla lì come simbolo di una lotta di genere superata e vinta non ci fermiamo solo al discorso del simbolo del rito che però comunque secondo me è molto molto importante a tutt'oggi Torino ma come tanti altri grossi consigli noi siamo il sesto in Italia si è femminilizzato come professione nel senso che è già a tre o quattro anni che il numero delle avvocate superano il numero degli avvocati e a questo punto come ente ti devi fare delle domande per orientare i servizi e superare quelle difficoltà e quindi per esempio abbiamo creato questo baby parking che è anche un'idea splendida perché le avvocate e i cittadini che cedono al palazzo di giustizia avvocati e avvocati non abbiano la difficoltà di avere i bambini con sé durante il periodo di chiusura scolastica e quindi possano lasciare i loro bambini lì ma questo lo dico perché perché sacro santo è importante avere i simboli a disposizione di tutti i cittadini a proposito del fatto che questi sono valori che devono sempre accompagnarci perché anche lì conquisti diritti ma devi sempre coltivarli e al contempo superare anche adesso quelle che sono le difficoltà nell'accesso alle professioni esattamente come aveva fatto Lidia Poet nel 1883 grazie di questa occasione grazie alla scrittrice di avermi fatto scrivere la prefazione per me è stato un grandissimo onore grazie grazie allora parlare di Lidia Poet per me è un onore per me Lidia Poet io l'ho conosciuta da la lettura di un altro libro direi nei primi anni 2000 di Clara Bonafus Bonus ecco di Clara Bonus e da lì mi sono affezionata a questa figura e devo dire l'ho coltivata l'ho coltivata nel mio cuore ho iniziato a cercare notizie e negli anni 2000 non c'erano notizie su Lidia Poet nessuno conosceva Lidia Poet nessuno sapeva chi fosse nel 2013 ero consigliera dell'ordine cadeva il 130esimo anniversario della sua iscrizione dal 1883 ovviamente la prima iscrizione e l'ordine fece un noi abbiamo come rivista una rivista per tutti gli iscritti che si chiama La Pazienza e l'ordine fece un numero speciale su questo in occasione del 130esimo anniversario sempre in quella data mi sono recata attraverso di Perrero dove è nata e ho visto la sua casa lì era stata apposta una una targa e e lì mi sono ancora più stupita e mi sono detta ma com'è possibile che la prima avvocata d'Italia sia nata qua in mezzo alle montagne e non a Roma a Milano in una città grande no? no qua qua in mezzo in mezzo ai monti in mezzo ai prati beh c'è una storia una storia bellissima intanto la prima cosa che dobbiamo sapere di Lidea Poeta è che era valdese e secondo me questo è fondamentale perché eh all'epoca i valdesi avevano appena avuto i diritti civili no? dal eh dal re d'Italia Lidia è nata nel regno dei Savoia no? nel regno d'Italia perché non c'era ancora l'unità d'Italia e i valdesi i valdesi avevano uno spirito diverso rispetto ai cattolici c'era il culto dello studio no? del e quindi Lidia ha studiato Lidia è nata in una famiglia dove si studiava e dove non si impediva alle donne di studiare perché dobbiamo contestualizzare contestualizzare molto bene quando Lidia è nata eh l'ottantaquattro per cento delle donne erano analfabete eh l'ottantaquattro per cento gli uomini il settantaquattro per cento Lidia è nata in un mondo che noi non ci immaginiamo neanche lei ha potuto studiare ha potuto studiare perché la sua famiglia gliel'ha permesso e anzi credo che l'abbia anche spinta in qualche modo eh ha potuto fare studi straordinari lei è andata anche in Svizzera a studiare ha studiato lingue quindi aveva una cultura cosmopolita no? per l'epoca assolutamente cosmopolita quindi da traverse di Perrero eh arriva questa ragazza straordinaria che si iscrive come ricordato prima eh la presidente c'erano solo quattro iscritte pensate si contano sulle dita di una mano quattro iscritte all'università sono andata a cercarmi i nomi perché voglio ricordarle Bargis Teresa Lettere e Filosofia Capra Novarese Carlotta Lettere e Filosofia Maria Vellè da Farnè Medicina che è la prima laureata eh torinese e che poi è stata anche la medica dalla regina Vittoria hm e Lidia Poet giurisprudenza tra queste quattro quella che sceglie la facoltà più lo dico maschile hm per per l'opinione dell'epoca è proprio Lidia Poet perché insomma Lettere e Filosofia ma anche Medicina tutto sommato no? perché comunque è la cura il lavoro di cura eccetera ma giurisprudenza no giurisprudenza è veramente scriversi giurisprudenza è rivoluzionario per l'epoca e lei lo fa lo fa Simona ci ha già detto no? con quale impegno e con quale lo fa si scrive si laurea con una tesi sul diritto di voto femminile non è un caso è una tesi interessante che adesso voi potete trovare anche su internet grazie a lei si laurea fa la sua pratica dà l'esame sostiene l'esame lo supera si scrive abbiamo già detto tutto quanto ma quello che io voglio dire è che veramente il consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino ha scritto una pagina bellissima bellissima perché è stato l'unico consiglio dell'ordine a iscrivere una donna e voi direte già ma non ce n'erano altre attenzione altri consigli dell'ordine nonostante non ci fosse non ci fosse nessuna donna che chiedesse l'iscrizione preventivamente hanno fatto hanno fatto delle delibere in cui negavano l'accesso alle donne nel momento in cui si è iscritta glidia poeta ha chiesto l'iscrizione gli altri consigli dell'ordine d'Italia preventivamente hanno deliberato che non si potevano avvicinare le donne al consiglio dell'ordine quindi tra cui Milano Venezia voglio dire tra cui importanti importanti consigli allora voi capite a me piace pensare questa Torino liberale questa Torino illuminata che dice no le donne si possono iscrivere devono avere parità di accesso addirittura due consiglieri dell'ordine si sono dimessi per protesta quindi è passato a maggioranza ma due consiglieri dell'ordine si sono dimessi per protesta quindi la discussione una discussione che ha coinvolto tutta l'Italia noi adesso non le immaginiamo ma sui giornali all'epoca c'è stata un'ampia discussione in Parlamento non oso immaginare nei salotti torinesi che cosa è successo quante discussioni pro contro questa giovane così intraprendente ma che cosa vuole fare questa qua che cosa vuole è stata stoppata subito dai giudici allora qui purtroppo la magistratura torinese non fa una bella figura devo dire nel libro sono riportate le pagine delle motivazioni sono guardate sono le motivazioni sono a leggerle oggi veramente fanno venire i brividi perché il giuridico non c'è niente ma veramente niente e questo lo capisce anche uno che non ha studiato diritto le motivazioni sono fanno riferimento al vestiario che le donne portano al fatto che il giudice potrebbe essere distratto dalla bellezza della donna che potrebbe essere come dire non 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 equilibrato nel suo giudizio perché insomma no si sa le donne sono così quindi poi l'uomo la carne è debole no ecco e quindi Lidia Poet l'iscrizione di Lidia Poet viene cancellata io non so come Lidia Poet abbia reagito immagino malissimo ma quello che ha fatto poi nella sua vita è la risposta più bella che una donna potesse dare ha lottato tutta la vita ha lottato tutta la vita al pari di Anna Maria Mozzoni di Anna Kulischoff al pari della Montessori e assolutamente al loro pari ha fatto cose straordinarie dimenticate qui qualcuno prima ha detto eh la storia viene dimenticata soprattutto la storia delle donne soprattutto la storia delle donne è da poco tempo che si cerca di recuperare la storia delle donne la storia delle donne è stata a lungo tempo dimenticata le donne quello che hanno fatto è stato cancellato ehm ma ci sono anche delle motivazioni eh ci sono anche delle motivazioni il lungo periodo fascista che noi abbiamo vissuto eh ha di fatto cancellato moltissimo della storia delle donne perché le donne sono state relegate ad altri ruoli ad altri ruoli eh Lidia Poet ehm si è battuta per il diritto di voto delle donne si è battuta come ha detto prima ehm Simona eh per i diritti dei bambini con la Montessori eh si è battuta per i diritti dei detenuti ha scelto le figure più deboli della società lei è stata dalla parte delle figure più deboli della società lei è stata l'avvocata delle figure più deboli della società è stata avvocata tutta la vita e questo secondo me anche se eh mancava l'iscrizione è stato in qualche modo riconosciuto anche dalla società è molto probabile che lei vedesse chiamata l'avvocatessa all'epoca non si diceva avvocata ma si diceva avvocatessa io questo l'ho anche trovato in un documento della della prefettura adesso figuriamoci se riesco a trovarlo ma mi piace grazie un documento del eccolo qua il prefetto della provincia di Torino del 1918 1918 quindi è prima dell'iscrizione di Lidia Poet all'ordine degli avvocati 1920 perché solo nel 1920 a seguito della legge Sacchi Lidia Poet potrà iscriversi al consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino prima donna iscritta ma nel 1918 ma nel 1918 viene istituito il patronato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra i vidi moranti ed è costituito da personalità di grande spicco 36 personalità di grandissimo spicco tra cui il primo che viene indicato è l'avvocato Luigi Facta voi sapete che l'avvocato Luigi Facta è stato l'ultimo presidente del consiglio prima di Mussolini è stato quello che è stato defenestrato da Mussolini quindi il presidente tra i membri c'era l'avvocato Luigi Facta poi ci sono altri avvocati importanti eccetera eccetera c'è una sola donna tra i membri Lidia Poet ebbene come viene chiamata avvocatessa eppure lei non era iscritta non era avvocatessa ma viene chiamata avvocatessa questo secondo me ci dice chiaramente che l'iscrizione conta fino a un certo punto perché lei se l'è conquistato sul campo no? questo 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 titolo se l'è conquistato veramente sul campo allora io termino qui perché ci sono tanti altri relatori e moltissime cose da dire su Lidia Poet sono contenta sono contenta sono contenta che sia uscito questo libro ne sono usciti anche altri questo secondo me è particolarmente curato nella nella descrizione nella storia è quello più più completo in assoluto sono contenta che sia stata data voce a Lidia Poet solo nel 2019 e come consiglio dell'ordine diciamo portiamola fuori perché nessuno la conosce guarda Simona adesso nel 2023 tutto il mondo ne parla questo grazie a Netflix non dobbiamo nascondercelo grazie a Netflix che ci dà un'immagine che non è quella di Lidia Poet ma che comunque l'ha fatta conoscere e allora comunque gli siamo grati grazie sì esistono diversi libri il primo è quello di Clara Bonus citato dall'avvocato Confente è uscito nel 1997 Clara Bonus nel 1996 partecipa a un concorso a Milano di scritti riguardanti personaggi italiani famosi sconosciuti dimenticati Clara Bonus con il suo testo su Lidia Poet vince il concorso vince 5 milioni di lire nel 1996 e lo utilizza per pubblicare con l'editore Alzani La Toga Negata titolo emblematico cito volentieri Clara Bonus perché è stata sindaco di San Germano per 15 anni che è uno dei comuni dell'Unione e perché mi ha preceduto come assessora la cultura dell'unione dei comuni Valchigione germanasca come editore a Novero Clara Bonus nel team dei miei autori per lei ho già pubblicato diversi libri tra cui ho ripubblicato La Toga Negata anche in tempi non sospetti prima di Netflix perché ci teneva particolarmente Clara il discorso su Netflix lo affrontiamo adesso ma sotto un altro punto di vista critiche applausi commenti ce ne sono stati tantissimi l'immagine che è uscita di Torino all'esterno in giro per il mondo è di una Torino ottocentesca deliziosa è stata definita deliziosa da un giornalista francese e a Torino abbiamo colori quali mi sembra deduttivo definirlo braccio operativo però sono coloro i quali hanno prodotto realmente in pratica la fiction che è Film Commission Torino-Piemonte e abbiamo il piacere di avere qui con noi Beatrice Borgia che è la presidente di Film Commission che invito sul palco anche come esempio di donna in carriera oltre che se vuole parlarci un po' di questo rapporto con Netflix di come è nata la fiction insomma un discorso un po' a dieci minuti a ruota libera acceso tanto ringrazio tutti quanti i relatori perché avete restituito dei dettagli estremamente interessanti della vita reale appunto di Lydia Poet io rientro nella categoria di quelle donne che hanno scoperto Lydia Poet grazie alla serie Netflix nonostante abbia una serie di avvocati anche in famiglia quindi mi dispiace ecco esserne venuta in contatto in questo modo però per me la serie Netflix ha un grandissimo valore sia come persona è stata la prima set visit quindi una delle cose che facciamo in Film Commission è proprio andare a vedere quando insomma supportare adesso i miei colleghi supportano proprio le riprese sul campo io spesso appunto le vado a trovarli ed è stata proprio la prima dopo appunto essere stata nominata presidente della Film Commission quindi non sapevo assolutamente nulla io arrivo da un mondo completamente diverso come forse alcuni di voi sapranno nell'ambito più industriale e imprenditoriale e quindi sono stata subito affascinata da tutto quello che avveniva dietro le quinte da questo personaggio che nello specifico era stato appunto veniva rappresentato da Matilda De Angelis era ancora il periodo in cui bisognava farsi assolutamente prima di entrare nel set il tampone per il covid salvo poi scoprire che il giorno dopo la regna Matilda De Angelis aveva il covid detto cavolo non è stata fortunatissima e la visita è avvenuta in quella che poi nella sceneggiatura è la casa Barberis la villa Barberis peraltro tutti ci aspettiamo che probabilmente sia a Torino invece era Racconigi quindi siamo andati assolutamente fuori a Racconigi gli interni sono stati tutti girati lì ma per me ha un grandissimo valore in realtà col cappello appunto di Film Commission perché beh è già stato citato più volte la terza serie Netflix più guardata al mondo e questo sicuramente è un'opportunità enorme per Torino per il Piemonte perché avrete riconosciuto qualcuno di voi avrà riconosciuto tantissimi paesaggi che non sono solo Torino ma ha messo a sistema un po' di tutto il Piemonte e quindi ha permesso di proprio Asti sì perché il teatro regio in realtà che vedete nella fiction è il teatro di Asti non è il teatro il teatro regio però ha permesso proprio di accendere nel senso reale dei termini i riflettori su Torino sul Piemonte e soprattutto su una figura importantissima insomma poi oggi stiamo sentendo parlare tantissima che è quella di Lidia Poetto una figura che è portatrice anche di un messaggio molto attuale molto molto importante peraltro appunto anche per me come donna come professionista è sicuramente un messaggio stimolante e intrigante lato e poi ha un valore anche economico perché comunque una serie come la serie appunto di Lidia Poet si ferma lunghi periodi sul territorio nel caso specifico mi sembra si è fermato circa 5-6 mesi sul territorio e ha avuto una ricaduta economica di circa 4 milioni su una spesa totale di progetto di 14 milioni sono stati spesi sul nostro territorio quindi diciamo che visto che noi siamo anche garanti proprio della filiera del cinema dell'audiovisivo in Piemonte sicuramente queste sono progettualità che hanno un enorme valore proprio a 360 gradi e poi mi fa sorridere recentemente in un'intervista anche perché appunto sicuramente accendendo i riflettori su questo personaggio poi molte richieste molte polemiche cadono su di noi ho detto ma per me una serie come quella di Lidia Poetto è perfettamente in linea con il mandato che ci siamo dati quando appunto ci siamo insediati con il nuovo comitato di gestione abbiamo detto ci siamo tre direttrici di sviluppo che sono qualità internazionalità e responsabilità qualità perché ormai le numeriche non so se qualcuno di voi ha avuto modo di seguire però l'anno scorso abbiamo chiuso un 2022 con oltre 1024 giornate di ripresa che vuol dire spannometricamente circa 3 sette al giorno tutto l'anno inclusi anche sabati domeniche e questo vuol dire che a livello in termini di numeri che molti di voi probabilmente sono stati assolutamente anche impastiditi dalle produzioni cinematografiche che avete visto in città quindi non possiamo crescere più di tanto però dobbiamo puntare sempre di più sulla qualità e questa è sicuramente una serie che ha ingaggiato dei professionisti di primissima classe pensiamo appunto a Matteo Rovere il regista enfant prodige sicuramente del cinema dell'audiovisivo italiano Matilda De Angelis e tanti autori appunto che sono proprio di in prima linea la seconda direttrice è internazionalità e questa chiaramente è una serie non solo internazionalità come pensiamo appunto ai grandi blockbuster di cui Fast and Furious è uno di quelli che molti di voi avranno di cui avrete sentito parlare ma proprio la capacità per una produzione cinematografica di parlare a un pubblico internazionale e Lidia Poet chiaramente ha tutti i requisiti per parlare in maniera anche molto efficace al pubblico internazionale vediamo appunto la ripresa che ha avuto e questo per noi è un'opportunità di visibilità di visibilità sul personaggio visibilità sulla città e visibilità anche su tutta quella che è la filiera del cinema dell'audiovisivo sul territorio e infine la responsabilità mi piace chiamarla responsabilità più che sostenibilità che penso che chiunque di noi come professionista o come persona comunque sempre di più debba portarsi dietro dei valori essere portatore di valori di responsabilità e in tal caso chiaramente appunto Lidia Poet è portatrice di messaggi molto importanti socialmente molto importanti quindi diciamo che per me è proprio un esempio di progetto che ci permette assolutamente di essere in linea e allineati con le direttrici di sviluppo che abbiamo dato appunto alla Film Commission grazie grazie a voi e adesso abbiamo il piacere di avere con noi Daniela Trezzi avvocata con una caratteristica particolare pronipote di Lidia padre avvocato lei avvocata figlio avvocato quindi hanno 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 proseguito la anche nella professione le orme le orme di Lidia tra l'altro Daniela a casa ha un reperto importante che è la tesi di laurea giusto di Lidia Poet manoscritta proprio da Lidia prima di consegnarla alla staffa un saluto a tutti buongiorno a tutti e questo giorno io sono qui appunto avvocata non si sente io no no quindi oggi sono qui come avvocata pronipote di Lidia Poet è giusto che vi presenti quindi questo pezzo mio di famiglia mia discendenza Lidia Poet non ebbe figli né si sposò e inevitabilmente si è affezionata a tutti i nipoti che ebbe dalla sua amata sorella Caterin nacquero tre figli una Anna la famosa Tantana la ziana che accompagna Lidia per tutta la vita l'accompagna ovunque e la segue ovunque e resta con lei fino alla morte a Diano Marina nel 1949 io la ricordo benissimo Tantana perché è morta nel 1970 quindi qui dichiaro che già c'ero e comunque sono indimenticabili le merende a casa sua a San Germano Chisone il tè le tartine con tanto burro così e marmellata fatte in casa e tutto accompagnato da questi inesauribili racconti delle avventure vissute delle vicende vissute con Lidia Tantana poi l'altra nipote si chiamava Lidia era la nonna delle mie cugine Sandra e Giglio Laribette e poi c'era Ulisse nome nome il mio bisnonno la testa calda della famiglia lui era un viaggiatore indefesso si trovava a San Francisco nel 1906 dove aveva fondato una fabbrica di vetri e dovete poi lasciare a seguito dell'incendio e del terremoto dovete tornare a casa quindi questa è la mia discendenza mi aiuto con gli appunti perché non voglio dimenticare niente Lidia è stata una figura davvero importante in casa mia io e mia sorella siamo cresciute sempre con siete discendenti di Lidia ricordatevelo sempre in mezzo ai suoi oggetti i suoi segni i suoi ricordi se ne parlava in famiglia se ne parlava tra cugini ma con l'esterno mai nell'esterno mai parlava di lei come è stato già detto non se ne sapeva niente di Lidia Poet era un fatto nostro intimo privato familiare adesso è diventata un'icona abbiamo detto grazie alla serie di Netflix molto molto liberamente ispirata e citata nel libro dell'Auci l'inverno dei leoni non vorrai mica metterti a lavorare come quella donna la poeta e poi vengono dedicate a lei ormai biblioteche scuole vie piazze è stupendo una cosa meravigliosa mia sorella io e la cugina Sandra che siamo sue discendenti come esistono altri discendenti non le uniche discendenti però siamo un po' quelli che conserviamo la sua memoria storica nel senso che possediamo i suoi oggetti le sue cose private i suoi documenti e quindi siamo fieri di dover conservare questa sua memoria immaginate ma non immaginate perché è stato già molto ben descritto nel libro è anche molto ben descritto immaginate cosa volesse significare frequentare l'università nella seconda metà dell'ottocento tutti uomini tutti maschi nessuna femmina quindi Lidia quando entrava in aula aveva il suo posto dedicato che però ha sempre rifiutato e inoltre in casa si raccontava sempre che quando il professore entrava in aula salutava e diceva buongiorno signori e buongiorno signorina già era l'unica e c'era solo lei minuta studiosa dolce e determinata così come mi è sempre stata descritta da appunto i parenti mio padre la nonna eccetera piccolo inciso mio padre nacque nel 1922 quindi ebbe la fortuna di frequentare assiduamente la zietta come lui la chiamava anzi lui era figlioccio della Lidia Poete fu proprio lei a indurlo a laurearsi in giurisprudenza e qui ricordo sempre con grande piacere gli donò la sua scrivania su cui lui studiò e dove poi io studiai e divenni poi avvocato quindi è una di quelle cose che conservo con grande una scrivania magica eh sì però il DNA non proprio così diciamo comunque la sua è stato già detto nel libro è anche molto ben descritto la sua è una giata è colta famiglia valdese è opportuno rilevare come nascere crescere in una comunità valdese abbia inciso significativamente sulla preparazione le possibilità di Lidia come è stato già detto però io lo ribadisco perché ci tengo i valdese hanno da sempre dimostrato un'ampia apertura mentale un vivo interesse per lo studio la conoscenza e l'internazionalità un profondo senso della parità e dell'eguaglianza il tutto accompagnato da un'estrema sobrietà questa è la descrizione di Lidia Lidia era così a me è sempre stata descritta proprio così la madre vedova riconcia dell'interesse di Lidia per lo studio vuole concedere a lei le stesse opportunità che già aveva concesso ai fratelli e quindi la famiglia l'accompagna passo passo sino alla laurea Laura dalla tesi il titolo della tesi è già stato detto comunque lo ripeto con molto fiera studio sulla condizione della donna rispetto al diritto costituzionale e al diritto amministrativo nelle elezioni e questa io appunto conservo la sua copia manoscritta di quel giorno conservo inoltre la penna d'oro che la famiglia le donò con incisa la data 17 giugno 1881 la famiglia le sta accanto anche in seguito nei momenti più bui che sfociano con la decisione definitiva della corte di cassazione di Torino in data 11 novembre 1883 che confermando le argomentazioni già del del procuratore del re in corte d'appello definitivamente decretava l'estromissione di Lidia dall'ordine degli avvocati la decisione forse era inevitabile per l'epoca anche se le motivazioni oggi ci fanno inorridire ma la corte ufficializzava ancora la disparità naturale tra i sessi ma Lidia come abbiamo detto passionaria idealista alla fine ce la farà dovrà attendere la legge la 1176 del 19 ma tardalese l'ex sed l'ex e quindi alla fine ce l'ha fatta abbiamo detto che era una donna io vi dico quello che mi è stato sempre descritto in famiglia perché comunque non l'ho conosciuta era una donna caparga intelligente determinata a vivere in quegli anni tra l'ottocento e il novecento in cui vigeva ancora l'autorità maritale e cioè la subitanza giuridica della moglie al marito non era una cosa semplice per una come lei infatti è rimasta sempre nobile anzi affermava piuttosto suora di carità ma Lidia comunque non si fece scalfire più di tanto a fianco al fratello Giovanni Enrico avvocato con studio a Pinerolo prepara atti difensivi tesi giuridiche che però non può sostenere personalmente nelle aule dei tribunali tra i suoi clienti più affezionati diciamo così la famiglia Agnelli nel 1909 mi sembra quello l'anno il senatore Agnelli l'accompagna a Roma dove lei resterà tre mesi e con studi riuscirà a dirimere l'avvertenza tra la Fiat e la San Giorgio da questo momento la stima degli Agnelli si trasforma in amicizia e in affettuose attenzioni quando finalmente Lidia fu iscritta all'albo degli avvocati definitivamente gli Agnelli regalarono un bellissimo ventaglio che riproduce una caotica aula di tribunale questo ventaglio per volontà di Lidia doveva passare alla sua prima discendente avvocata per cui il ventaglio è passato a me e fa bella mostra di sé sulla parete di casa mia sì è una cosa importantissima il suo impegno sociale è stato detto è stata la cosa che l'ha più caratterizzata è stata l'avvocata l'avvocata di tutti ma è stata l'avvocata degli emarginati di quelli che avevano veramente bisogno di essere difesi viaggiava attraverso l'intera Europa mostrando di possedere idee di straordinaria attualità e originalità per sostenere gli ideali in cui credeva i diritti dei minori degli emarginati dei carcerati e per ora naturalmente sempre la causa dell'emancipazione e del suffragio femminile grazie alla perfetta conoscenza delle lingue inglese francese e tedesco rappresentò l'Italia in vari congressi internazionali nel 1890 fu a San Pietroburgo per il congresso penitenziario internazionale a seguito del congresso del 1895 a Parigi sulla condizione della donna dove si mise in mostra per il suo ardente arguto intervento venne insegnita del titolo di officier d'accademy e io lo conservo in originale questo suo riconoscimento e poi ancora Londra Roma Amsterdam Bruxelles viaggi durante i quali inoltre strinse amicizie veramente importanti che conservò negli anni me ne cito alcuni Verlem Passanti Amicis e molti altri con la cugina Sandra Ribette stiamo cercando di mettere ordine in tutta la corrispondenza che abbiamo trovato appunto con questi personaggi e speriamo di riuscire a farne un bel insomma abbiamo degli obiettivi fu nominata ispettrice dei penitenziari femminili e si adoperò affinché le detenute durante la permanenza in carcere potessero lavorare in modo da mettere da parte una piccola somma per una loro indipendenza una volta uscite dal carcere ed è simpatico ricordare che tra le varie lavori Lidia ideò e fece confezionare dalle detenute i poggiatesta bianchi che adornavano i vagoni ferroviari di prima classe quindi questa era una sua idea e le carcerate le confezionavano riuscì a vedere realizzato il suo sogno del voto alle donne per il quale aveva lottato sempre dal momento in cui si era laureata anzi nel 1922 era stata anche nominata presidente del comitato pro voto donne è importante ricordare che per Lidia il voto alle donne era un obbligo un dovere un diritto una necessità però le donne dovevano essere educate a votare non sbattute al voto cosa vuol dire? vuol dire che la donna doveva arrivare a votare conscia consapevole di quello che stava facendo e non andare a votare quello che il fratello il padre il nonno lo zio le avevano detto di votare quindi questa è una donna a 360 gradi fosse nata oggi o ieri farebbe ancora parlare di sé una donna così quando Marco Garavello l'odierno ospite nostro ospite Andrea perché ti chiamo Marco non so perché c'è Marco lì e quindi mi ha invitato e gli ho detto di cosa parla e gli ho detto parla ricordi di famiglia nomina oggetti che conservi così e poi gli insegnamenti ricordi alcuni li ho ricordati oggetti alcuni li ho nominati e gli insegnamenti giudicate voi cosa può aver insegnato una donna così mi ha insegnato tutto essere una persona una donna e sì il suo esempio non mi ha mai fatto dubitare dell'eguaglianza tra i sessi assolutamente per me mia sorella Margherita era una battaglia già vinta non poteva essere diversamente in casa nostra è sempre stato così Lidia condivideva le finalità portate avanti dalle soffragette ma non approvava i toni e i modi perché lei era assolutamente una persona per quanto moderna attivista impegnata nelle sue lotte non era assolutamente aggressiva non era violenta ribadiva la diversità e nel contempo la complementarietà tra i sessi nella sua tesi si legge credo che unendosi le qualità degli uni a quelle delle altre contemperandosi le esagerazioni e le imperfezioni reciproche si giungerebbe a quell'armonia migliore desiderabile tanto nello Stato quanto nella famiglia stessa quindi la sua rivoluzione culturale coinvolge uomini e donne perché solo insieme si può riuscire questa per me è parità e uguaglianza ho trovato gli atti di una conferenza che Lidia tenne il 4 aprile del 1914 a Torino sulla condizione della donna naturalmente a prescindere dalla sorprendente analisi effettuata a frutta di approfonditi studi e ricerche sulla condizione della donna nel mondo mi piace chiudere come ho già chiuso una conferenza organizzata dal mio consiglio del mio ordine chiudere come avevo chiuso allora e come ha chiuso Lidia la sua conferenza os etre osa essere osa essere per amare e aiutare quelle che lavorano e che sono ancora vittime dell'ingiustizia e della povertà a tua volta impara a lavorare tu che nella società godi di un posto privilegiato per capire quelle che penano os etre os etre quindi uno sprone sempre attuale che faccio mio e che fa e che sporgo a tutte le donne di ogni generazione ma anche agli uomini os etre os etre osate essere voi quelli non che infrangeranno le regole ma che le cambieranno ho quasi finito no ci tengo ancora a dire una piccola cosa che dico sempre dopo questi miei interventi però buon sangue non mente mio figlio francesco è avvocato a londra e mia nipote orsetta laureante in giurisprudenza a torino poi ringrazio anch'io a parte naturalmente la cristina ricci per il suo libro meraviglioso ringrazio netflix perché ha portato alla luce questa figura però non la non ringrazio netflix per come ha ridotto questa figura scusatemi mi spiace dirlo però eh no bisognava dirlo cioè io penso che una figura così ha così tante cose da dire che ne poteva venire fuori veramente un giallo un thriller qualsiasi cosa però così come comunque hanno sbagliato già a cominciare dal nome e grazie a dio perché forse non era lei la chiamano lydia poet lei era lydia poet allora fondamentale l'essere valdese è stato ripetuto in diversi interventi e chi meglio di davide rosso può dirci qualcosa a tal proposito direttore della fondazione centro culturale valdese direttore del museo valdese di Tore Pelli giornalista già direttore di riforma editore di la beidana insomma tantissime cose buon buon pomeriggio a tutti io arrivo adesso quindi tantissime cose sono già state dette scusa no cose da dire ce ne sarebbe ma sono loro che non so se riescono a sopportarmi per più di tanto mi avevi detto dieci minuti io ho cercato di mettere giù qualche appunto l'idea era quella di partire da tre temi diritti memoria e contesto li metto da parte perché li avete già affrontati tutti benissimo l'avete detto tutto benissimo tra l'altro dopo le parole sui valdesi che sono state appena dette sono un po' a disagio però è vero che bisogna partire forse da lì perché nel 1848 ormai si ricorda sempre meno sembra non siamo a livello di Lidia prima della serie Netflix però nel 1848 17 febbraio i valdesi ottengono le libertà civili cioè il diritto di esserci il diritto di esistere non le libertà religiose quelle civili cioè Lidia può andare all'università alcuni decenni dopo perché c'è stato il 48 prima avrebbe frequentato le grandi forse ma non so neanche ma le grandi università straniere non quelle del regno perché era valdese questo però capitava anche agli uomini prima del 1848 capitava di avere una laurea averla conseguita a Lausanna Londra Berlino se venite al museo valdese a Torre Pellice noi abbiamo messo l'elenco di tutte le città e di tutte e soprattutto le università in cui si poteva andare allora a conseguire un titolo che non avresti mai potuto utilizzare non a casa tua perché tu eri chiuso lassù nelle valli dove lei è nata cioè in Val Germanasca non in Val Chisone perché la Val Chisone sulla sinistra orografica c'era già stata tolta un paio di secoli prima tolta nel senso proprio che se andate invece in Germania quando arrivate a Francoforte scendete a Waldorf cioè in una colonia valdese non perché i valdesi sono andati a colonizzarla ma perché sono stati esiliati lì questo però nel 1694 e successivi lei nasce 15 anni dopo tutto questo un po' di meno cioè nasce in un mondo tutto sommato agiato è già stato detto per la sua famiglia che ha dei diritti ma in cui le donne non hanno ancora i diritti hanno il diritto siccome lei è valdese e quindi deve saper leggere perché bisogna leggere la Bibbia bisogna poter frequentare la chiesa tua di appartenenza ha il diritto a studiare a imparare a leggere a scrivere a continuare gli studi a fare siamo appunto lei nasce nel 1855 è già stato detto andiamo avanti tra l'altro i suoi studi non li fa alle valli comincia qualcosetta lì ma poi viene mandata fuori perché a Pinerolo era difficile andare a scuola anche se eravamo nel 1865 70 era complicato ha dovuto andare via e poi l'università era valdese ma era donna non aveva tutti i diritti e quindi si iscrive all'università ma questo Cristina l'ha scritto molto bene la prima iscrizione è stata sbagliata e ha dovuto cambiare subito dopo vi dico solo il nome Lombroso cioè il suo professore era non puoi capitare peggio non l'ho mai detto è Lombroso va benissimo però ha cambiato e per fortuna per fortuna per quel che è stato detto perché si è aperto un mondo di fronte a lei e dietro aveva la sua famiglia perché in famiglia aveva già delle persone che facevano quel mestiere e che potevano anche aiutarla cosa che nella serie di Netflix non viene fuori molto non sembra che l'aiutino molto in famiglia invece no lo fanno lei però non abita a Torino abita a Pinerolo e qui viene fuori non tanto l'essere valdese ma l'essere pinerolese o meglio l'essere pinerolese d'adozione perché arrivo da Torino però fa niente è bello dirsi pinerolesi è bello aver ritrovato il registro della chiesa di Pinerolo in cui c'è l'iscrizione di Lidia Poet e Lidia Poet è iscritta alla chiesa di Pinerolo con una nota che denota il suo carattere risiede a Pinerolo ma anche a Diano Marina e talvolta a Mentone era era difficile legarla questa è l'impressione che ho avuto però era anche in una chiesa che nel 1903 dà il diritto alle donne di voto sapete che la chiesa valdese si fonda su il sistema assembleare non esiste un qualcuno che per titoli è nominato ed è messo lì esistono delle assemblee che decidono votano eleggono i consigli di chiesa i concistori si chiamano le valli valdesi di memoria napoleonica però sono i consigli di chiesa e vengono eletti da un'assemblea un'assemblea come foste voi in cui nel 1903 si dice ok siete voi ma ci sono molte donne fra di voi è giusto che anche le donne esprimano il proprio parere questo nel 1903 è un po' prima di quando di quando poi le donne avranno il diritto di voto in Italia c'è però una cosa che manca l'elezione di una donna perché quando parli di diritto di voto significa anche che la donna può essere eletta e questo è stato deciso nel 1903 dal sinodo ma non è avvenuto è avvenuto molti anni dopo dopo la seconda guerra nel 1946 cominciano le prime donne a essere elette elette in cariche amministrative perché nelle commissioni Lidia per prima c'erano già prima una delle cose che mi ero segnato era essere resistente intanto la parola non è ancora venuta fuori l'avete detto tutti lei resisteva faceva cose e le faceva per lei ma anche e soprattutto per gli altri e quel farli anche e soprattutto per gli altri si sono trasformati in tutto quello che avete detto le carceri i minori ma poi lei è stata nella croce rossa nella prima guerra mondiale uno dei quattro fondatori della croce rossa internazionale era lui Appia Luigi Appia valdese originario di Torre Pellice nella memoria c'era tutto questo e la croce rossa di Torino e il comitato di Torino che si costituisce per la prima guerra mondiale per ritrovare i soldati dispersi ce ne erano ogni stato aveva il suo di questo perché era il grosso problema non sapevi che fine aveva fatto il tuo familiare era in carcere era morto cioè era prigioniero era morto lei è una di queste persone ed è una delle persone che si dedicano come diverse altre donne alla cura di questi soldati l'altra cosa che ho incrociato per caso è il fatto che lei è tra i soci non so se fondatori o comunque è arrivata due minuti dopo del circolo di cultura di Pinerolo qui non so se Gian Piero aveva visto trovato qualcosa siamo nel 1900 a Torino nasce la società di cultura un po' una roba tipo il circolo dove siamo adesso insomma a Pinerolo nasce il circolo di cultura cosa significava significava mettersi insieme alcune persone che ci tenevano al fatto che gli altri leggessero che gli altri imparassero qualcosa che facessero cultura a se stessi e agli altri e Lidia è una delle persone di quel gruppo di fondazione di quel circolo circolo che comincia con 200 libri a un certo punto arriva la biblioteca popolare e porta 7000 libri a disposizione della popolazione dei soci e della popolazione fanno un po' concorrenza la biblioteca civica ma in realtà in realtà lo fanno insieme lei figura fin da subito primo perché acquista l'abbonamento a una rivista che parla del mondo e quindi una rivista che dà l'idea di quello che capita fuori dalle valli e dal pinerolese e dal regno due compare nel consiglio direttivo viene eletta nel 900 quindi è per quello che dicevo come pinerolese sono anche perché non sono solo i valdesi ci sono anche delle frange aperte nel 1848 l'elenco e qui vi invito di nuovo al nostro museo delle persone liberali che firmano per le libertà civili è lunghissimo e tra questi ci sono non ci sono valdesi perché non potevano firmare perché non avevano neanche il diritto di farlo ma ci sono tantissimi tantissime persone illuminate diremo oggi allora erano persone liberali che decidono di sottoscrivere una petizione al re Carlo Alberto per chiedere i diritti agli ebrei e ai valdesi ho finito adesso fammi ancora dire due cose anche a me su Netflix perché se no visto che si muovevi incuto timore solo no però veniva incontro a quello che dice esisteva una frangia liberale a Torino ed era abbastanza diffusa era larga certo esistevano i conservatori e per un lungo periodo hanno avuto la meglio ma esistevano anche gli altri sulla serie Netflix ovviamente mi è stato detto non parlarne troppo male non fare poi sono seduto di fianco a lui quindi non posso fare però io vi porto la mia testimonianza non di persona che ha visto tutta la serie la serie mi è piaciuta ma di direttore del centro culturale valdese non di Torrepellice ma che ha sede a Torrepellice noi siamo il centro culturale la fondazione centro culturale che rappresenta in qualche modo i valdesi da quando è uscita la serie io continuo a ricevere telefonate da tutto il mondo pazienza chi mi chiama da Perrero e mi dice ma guarda che si chiama poet non si chiama poet l'ho capito cioè lo so non è quello il problema ma quando mi telefonano dall'Uruguay o mi scrivono dalla Germania come è capitato due giorni fa o dalla Francia o mi arriva la volontaria da Cambridge che dice ho visto tutta la serie bellissima ma era proprio così questa storia il mio problema è noi dobbiamo avere degli strumenti in un'altra lingua che non sia l'italiano che non è conosciuto per far per rispondere a queste persone perché allora il dubbio che Lydia Poe non fosse quella descritta è venuto ma io non ho degli strumenti se non mettermi lì e scrivo è vero che ormai ho una mail tipo ciclostile che mando però ho bisogno di avere degli strumenti come il libro di Cristina come quello di Clara Bunus come altri per far sì che quello che noi abbiamo fatto perché l'oblio è colpa nostra se c'è non è colpa di Netflix siamo noi che non ci siamo più ricordati chi era Lydia Poet all'inizio degli anni 2000 è stata dedicata la scuola a Pinerol a Lydia Poet ma fino a quel momento nessuno ne parlava eppure lei aveva fatto tutto quello che ci è stato raccontato oggi la serie ci permette di riparlare di Lydia Poet e non di Lydia Poet ma dobbiamo essere in grado di farlo dobbiamo riuscire a farlo e l'unico modo per riuscire a farlo a livello internazionale come faceva lei è quello di avere degli altri strumenti quindi passo la palla a uno degli editori perché poi c'è anche l'altra per dire proviamo a muoverci proviamo a fare qualcosa in questo senso grazie lo dobbiamo tradurre in tutte le lingue mi hanno mandato un articolo dall'India è una televisione indiana che si occupa di diritti delle donne che là pare che la situazione sia ancora abbastanza difficile interessante l'articolo poi hanno messo una foto secondo me è la prima italiana che hanno trovato perché c'è una foto che non è Lydia è una donna una foto degli anni 60 che ritrae una donna che avrà 45 anni negli anni 60 quindi non può essere Lydia però è importante come si siano interessati hanno visto la serie e quindi si sono interessati e si chiedevano la storia la vera storia cosa era successo poi perché poi la fiction dà degli spunti e da lì possiamo partire poi per approfondire la storia di Lydia io chiamo qua sul palco adesso Giampiero Casagrande perché abbiamo parlato di libri lui è il direttore della biblioteca civica di Pinerolo come mai è qui con noi Giampiero Casagrande perché lui custodisce un bene prezioso che si chiama Fondo Lydia Poet giusto? Nì adesso vi dirò intanto mi avvicino perché devo appoggiarmi e tirar fuori un po' di roba intanto un geniale secondo me giornalista Pinerolese mi pare una donna di cui chiedo scusa non ricordo il nome commentando la serie di Netflix ha scritto Licenze Poetiche con la dieresi sulla E perfetto assolutamente perfetto per quello che è che scrive benissimo la serie Licenze Poetiche giuro anche che non mi sono messo d'accordo con l'avvocata Trezzi perché no ha letto il finale della conferenza del 1914 ha detto accidenti ma io devo cominciare con quello ma con l'inizio perché lo trovo bellissimo non vi è capitato mai nell'ammirare un paesaggio o udire un discorso di avere l'impressione come se anteriormente i vostri occhi si fossero rallegrati di quella vista e la vostra mente avesse già assistito allo svolgimento di quei concetti atavismi remoti forse ma forse anche come da noi vedute e sognate nell'animo nostro e che risvegliano in noi l'eco di pensieri e impressioni antecedenti così quando alla Aya l'Aya in Olanda mi trovai fra donne venute da ogni paese rappresentanti di quasi tutto il mondo civile unite nel cercare seriamente e con la semplicità che nasce dalle forti convinzioni di migliorare la condizione morale e materiale della donna del fanciullo e della famiglia e le udì raccontare ciò che avevano fatto in quel nobile intento e i risultati ottenuti mi parve di aver già vissuto quell'ora erano i lontani sogni giovanili quelli che mi avevano spinta e sostenuta nell'allora non facile via degli studi superiori la tanto desiderata unione delle forze e volontà femminili per il bene dell'umanità tutta che ritrovavo fatti realtà in quel momento e sentì rinascere gli entusiasmi fiaccati dalle dure prove dell'esistenza e vissi giorni di lavoro alacre e di ammirazione lieta per le belle energie i nobili ideali le fedi ardenti che scoprivo in ognuna delle grege persone che mi attorniavano mi piace questa frase perché c'è tutta Lidia qui c'è la sua storia tormentata c'è il suo scrivere donna fanciullo famiglia umanità con la maiuscola c'è il suo credo c'è il suo impegno questo è appunto l'inizio della conferenza della signorina Lidia Poet dottoressa in giurisprudenza officier d'accademy come è stato detto tenuta in Torino il 4 aprile 1914 mi fa particolarmente quasi tenerezza il fatto che sia pubblicata a cura di amiche e di ammiratori dalla tipografia il risveglio nel 1914 stesso a Torino questo opuscolo perché di un opuscolo molto breve si tratta fa parte della collezione Poet ni si no allora cosa è successo è successo che beh lasciamo parlare ancora una volta i bibliotecari scusate il mio mestiere ma Lidia è molto legata durante il corso della sua vita ai bibliotecari Davide Rosso parlava prima della biblioteca circolante Lidia lavora con Carlo Demo Carlo Demo è il bibliotecario di Pinerolo Pinerolo la biblioteca fra i più importanti del Piemonte che nasce nel 1868 Carlo Demo è dal 1892 al 1932 bibliotecario lì ed è lui che apre appunto al pubblico in precedenza i libri non uscivano dalla biblioteca non solo in consultazione è lui che negli anni primi del novecento inaugura la biblioteca circolante a questo punto con una consistente mano da parte di Lidia e vi leggerò alla fine quello che fanno insieme per le famiglie dei soldati della prima guerra mondiale a Pinerolo cosa succede? succede che nel febbraio 1951 scusate il salto di qualche anno gli è morto da due anni nel febbraio 1951 diventa bibliotecario dell'Agliaudi un personaggio che per noi bibliotecari è fondamentale a livello nazionale perché Antonio Francesco Parisi è uno dei più importanti bibliotecari nella storia d'Italia è fondatore a Pinerolo del primo sistema bibliotecario d'Italia scusate se è poco febbraio 1951 lui diventa direttore dell'Agliaudi dopo qualche anno e nel 54 comincia a pubblicare questi opuscoli annuali nei quali come devo fare ancora io tutt'oggi presenta una relazione delle cose fatte l'anno precedente in realtà qui la presenta dopo tre anni di carica dice appunto parla delle migliorie adottate a livello anche di arredamento della biblioteca all'epoca la biblioteca era ancora l'ultimo piano del palazzo comunale come sin dall'origine però a lui si deve l'attuale sede della biblioteca a partire dagli anni sessanta a questi miglioramenti alla suppellettile e ai locali fa riscontro i lavori per l'utilizzazione del patrimonio bibliografico sono stati eliminati tutti gli arretrati vi erano parecchie migliaia di opere da qualche anno in attesa di essere rese disponibili come ad esempio i lasciti del ragionier Badino e Avvpoet Lidia sì e no Avvpoet in questo caso riguarda la famiglia Poet perché noi abbiamo possediamo 1773 opere targate in qualche modo Poet sono opere possedute da Lidia da lei autografate i suoi libri di studio ad esempio sono opere del fratello che è stato nominato in precedenza Giovanni Enrico avvocato che fa un po' da padre a Lidia perché Lidia resta orfana giovane a 17 anni Enrico ha 20 anni più di lei quindi fa un po' da oltre che a fratello maggiore da padre nello studio lavorano anche noi abbiamo anche i libri lavora anche l'altro fratello forse meno noto Alessandro Alessandro è ispettore De Magnale e in un libro è chiamato notaio sulla piazza di Perrero non so sinceramente se notaio nel senso che intendiamo noi oggi ma soprattutto in un altro libro è chiamato sindaco di Traverse cioè Traverse aveva il sindaco oggi è una piccolissima frazione ma all'epoca aveva il sindaco ed era Alessandro il fratello il fratello di Lidia dicevo prima perché non esiste un fondo poet ho detto che Parise è stato uno dei più grandi bibliotecari di tutti i tempi d'Italia all'epoca però purtroppo c'era una un deleterio modo di procedere tragico per noi oggi se vogliamo cioè spesso e questo è il caso le donazioni venivano smembrate non fisicamente smembrate non i libri ma le donazioni cioè i libri donati dalla famiglia poet donati poi vediamo cosa vuol dire sono sparsi vengono immediatamente sparsi all'interno delle varie collosezioni di collocazione della biblioteca cioè non sono più insieme dico libri ma per la maggior parte ripeto sono opuscoli sia le poche pubblicazioni di Lidia sia le altre spesso sono estratti da rivista comunque sono 1773 quelle che noi chiamiamo unità inventariari quindi si tratta di un fondo decisamente cospicuo che viene sparso con quale criterio sto parlando anche con i miei colleghi per cercare di capire quale criterio possa essere stato adottato e non riusciamo a capirlo un criterio di formato i libri piccoli con altri fondi con libri piccoli può essere perché lo spazio è uno dei problemi ai quanto grave che abbiamo noi bibliotecari di argomento sì e no perché c'è un fondo giuridico denotato da una i lunga ius però si scrive quella i normale vabbè in biblioteca dove finiscono effettivamente alcuni dei libri più strettamente giuridici del fondo del fondo poet però molti altri vengono da Parisi sparsi altrove comprensibile che molti vengono inseriti nel fondo opi opuscoli giusto ma altri vengono inseriti in altre donazioni noi abbiamo una donazione straordinaria alla biblioteca agli Audi che è quella della famiglia De Geneis i De Geneis nel settecento hanno dato allo stato piemontese il fondatore della marina da guerra dello stato il ministro della marina e della guerra il primo comandante dei carabinieri reali quindi una famiglia importantissima nella storia l'ultima discendente a partire dal 1906 proprio con Carlo Demo e vive a Pinerolo non ha eredi dona tutta questa straordinaria biblioteca che tra l'altro ha una delle primissime edizioni dell'Encyclopedia ora ditemi voi perché alcuni libri del fondo poet vengono messi nel fondo De Geneis non riesco a capirlo non lo so tra questi così per farvi un esempio questo apparteneva probabilmente a Lidia anzi quasi certamente a Lidia illustrazione dell'Aurora questa è quella che noi oggi chiameremo una strenna che veniva donata a tutti gli abbonati dell'Aurora e qui c'è un cortocircuito personale questo è appunto la strenna diciamo così del 1775 dedicata a Diodata Saluzzo dico questo perché io di Diodata Saluzzo mi sono occupato a lungo essendo saluzzese d'adozione questa L'Aurora è una rivista fondata diretta e pubblicata a Modena da Adele Voena Adele Voena era di Pinerolo e quindi questo probabilmente fra i gli abbonati a questa rivista c'era una giovanissima a vent'anni Lidia Poet che riceve questo 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 dono perché è finito nel fondo dei genei sinceramente non lo so non lo capisco cercheremo di capirlo diciamo che una delle prospettive che abbiamo e che ci consente la tecnologia di oggi è quello di ricostruire in qualche modo il fondo intanto io oggi sono particolarmente contento di essere qui perché chiudo un cerchio personalmente perché un anno fa insieme eravamo al salone del libro e abbiamo per la prima volta parlato con molti dei presenti di Lidia Poet subodorando quello che poteva succedere grazie alla io dico se continuo a dire sceneggiato televisivo i miei figli mi dicono quanto sei vecchio papà eh sì allo sceneggiato televisivo è vero da allora mi è venuta l'idea ho approfittato di un canale di finanziamento della regione che ringrazio pubblicamente volto al appunto a favorire il non solo la conservazione ma la valorizzazione i fondi bibliografici ed archivistici ho preparato un progetto che abbiamo realizzato in questi mesi con l'associazione Silvio Pellico di Pinerolo ringrazio pubblicamente Marco Civra abbiamo organizzato una mostra bibliografica in biblioteca che è tuttora visibile con una piccola parte dei libri di questo fondo abbiamo realizzato alcuni appuntamenti fra cui un convegno lo scorso 24 marzo che vedrà la pubblicazione degli atti per cui ci sarà ancora effettivamente qualcosa su su Lidia che verrà pubblicato a breve spero di riuscire a pubblicare la storia della donazione perché come vi dicevo normalmente è sempre così sempre così fin dal 1868 con la donazione di Agliaudi che ha dato il via alla biblioteca e ancora oggi così quando ci donano libri o quadri c'è qualcosa c'è una lettera c'è un testamento c'è una delibera di giunta che riceve questa donazione non abbiamo per ora trovato nulla che testimoni la volontà degli eredi di donare queste 1773 opere al comune di Pinerolo non è detto che non ci sia per adesso non è saltata fuori quantomeno nelle fonti archivistiche che sono solito consultare non ce n'è traccia può anche darsi che non sia stata una donazione con i crismi che conosciamo noi oggi ma che sia stato come dire portato questo materiale alla biblioteca di Pinerolo e lasciato lì nel 49 dopo la morte di Lidia per due anni della biblioteca in quel periodo lì proprio non ha un direttore questo può essere una spiegazione del fatto che non ci sia traccia specifica di questa di questa donazione la seconda puntata di questo progetto potrebbe prevedere per l'appunto mi piacerebbe la catalogazione di questo fondo che farebbe in modo non di riunire di riunire fisicamente ma quantomeno virtualmente queste 1773 opere grazie a Giampiero ecco una particolarità delle opere che sono conservate a Pinerolo è che testimoniano proprio anche le amicizie di Lidia perché diverse hanno una dedica da parte di personaggi anche noti dell'epoca quindi da De Amicis assolutamente sì la cosa particolare e più bella se vogliamo è il fatto che Lidia diventa un esempio per cui tutte le autrici soprattutto che in quegli anni si battono per i diritti delle donne e pubblicano libri ne spediscono una copia a Lidia e gliela dedicano e questo ha particolare particolare valore va bene siamo quasi giunti alla fine abbiamo pochi minuti io chiuderei con Cristina Ricci proprio pochi istanti dove esserci ancora un intervento ma siamo fuori i tempi massimi perché dobbiamo anche permettere a chi lo desidera di acquistare il libro che c'è qua da Laura se siete interessati così poi anche Cristina può autografarlo e chissà mai che fra cent'anni Netflix faccia una fiction su Cristina Ricci e voi possiederete il libro autografato al circolo dei lettori il 13 aprile del 2023 due parole di conclusione sì io vi lascerei con le parole di Lidia Poetti perché tante cose sono già state dette e non è utile ripeterle come dicevo sull'impegno sociale che aveva fatto in favore appunto di tutti dai detenuti in particolare possiamo fare una piccola anticipazione rimandandogli al salone perché anche noi vogliamo in qualche modo portare avanti la sua idea e la sua vocazione e quindi lei diceva siamo tutti d'accordo da tempo che la punizione e la reclusione non sono vendetta della società contro colui che ha turbato l'ordine costituito ma che è una misura per impedire al criminale di continuare nei suoi atti lesivi dell'ordine e della morale senza i quali nessuna società può sussistere dobbiamo quindi sfruttare il tempo durante il quale questo elemento di disturbo è il nostro potere per fargli comprendere i doveri sociali e che per il bene è più utile a sé e agli altri non infrangere le leggi nemmeno quelle che esistono nelle nostre coscienze e che sono leggi divine rispetto a quelle istituite dagli uomini per rendere possibile e facile la convivenza sociale questo qua è diciamo un impegno verso il criminale in genere ma sono anche particolarmente interessanti proprio le parole che lei dedica ai minori e forse ce la posso fare perché Cristina accennava un'iniziativa che era presentata in conferenza stampa al Circo di Rettori venerdì 19 in collaborazione con l'assessorato della cultura dell'Unione dei Comuni l'assessorato della cultura del Comune di Pinerolo e sarà una raccolta di libri da donare alle biblioteche delle carceri di Torino e per questo insomma chiudiamo un po' il cerchio e portiamo avanti l'essenza di Lidia e questo per i minori lei si spendeva moltissimo come abbiamo detto lei riteneva innanzitutto bisogna dire che in quel periodo i minori scendevano in città scendevano a Torino dalle campagne per cercare lavoro e stiamo parlando di quelli che oggi definiamo bambini di 10-12 anni che venivano in città spesso da soli e potevano essere diciamo così arrestati per accatonaggio e vagamondaggio piuttosto che per piccoli crimini infatti sicuramente per sopravvivenza per cui venivano giudicati esattamente come venivano giudicati gli adulti con le stesse regole giudicate dalle stessi giudici e reclusi nelle stesse carceri per cui per lei era fondamentale non solo il recupero degli adulti ma soprattutto di questi minori che in queste condizioni erano veramente formati dal carcere per uscire dal carcere diciamo come giovani delinquenti e non come persone da poter inserire per cui lei auspicava che fossero inseriti in famiglia per una determinata tipologia di minori o piuttosto è interessante il fatto che lei definisca questi riformatori senza definirli lei dice non ha importanza come li vogliamo chiamare se appunto riformatori collegi ma l'importante è la funzione che questi istituti debbano avere e soprattutto era importante per lei il fatto della scelta dei direttori di questi istituti lei dice proprio punta l'attenzione sulla parola educatori perché secondo lei dovevano essere persone non i direttori dei carceri che in qualche modo venivano premiati allontanandoli dal carcere per essere spostati in strutture di più facile gestione lei dice non possiamo permettere che queste persone che hanno avuto usa proprio il termine il cuore indurito dalla presenza del crimine aver vissuto con il crimine per così tanto tempo non sono loro le persone più adatte per recuperare i minori che invece hanno necessità di un'accoglienza diciamo così a 360 gradi un riconoscimento come persona e quindi io vi lascio con queste considerazioni e con questi pensieri che sono sempre attualissimi nella nostra società ed è una strada quando prima dicevo ci dobbiamo interrogare su quello che noi proponiamo e portiamo avanti a leggere le istanze di Lidia Poet ci rendiamo conto come stiamo ancora percorrendo le stesse strade che percorreva lei da un lato perché forse non siamo stati in grado la nostra società di fare quel cambiamento che lei auspicava e dall'altro forse perché non siamo capaci di leggere la nostra società e di portare avanti richieste e istituzioni così innovative come faceva lei percorrere le stesse strade